Andiamo a conoscere anche le nostre stagiste che ci hanno accompagnato in questa giornata qui a Imperia TV. Sono state con noi Irene Michelis e Francesca De Vita dell'Istituto d'Arte di Imperia. Irene, cominciamo da te perché abbiamo avuto una mattinata interessante, tra l'altro dedicata alla fine a quello che avete fatto voi perché siamo andati a conoscere anche altri stagisti. Da questo punto di vista forse avete avuto la fortuna di vedere qualche realtà di lavoro in più rispetto agli altri. Sì, diciamo che è stata una mattinata interessante perché ci hanno spiegato soprattutto il montaggio, cosa succede dietro la telecamera, anche davanti. È stato molto interessante per quello. E poi avete visto un po' del nostro lavoro seguendoci direttamente. Un servizio realizzato su quello che state facendo voi. Sì, poi abbiamo anche avuto la fortuna oggi di andare con voi a fare delle interviste e quindi è stato molto interessante. E allora che ne dici di questo lavoro della televisione, visto da dentro la televisione per una volta? Beh, è stato bello e spero di riuscire a fare anch'io il regista. E mi è piaciuto vedere tanto queste riprese. Ecco, Francesca, fra l'altro voi fate l'Istituto d'Arte che è quindi una scuola molto vicina al nostro mondo, no? Sì, sì, sì. Ho fatto proprio questo indirizzo perché mi interessava quello che ho fatto. Pensando già alla televisione? Non proprio precisamente alla televisione ma nel mondo della televisione come della fotografia, del cinema, in questo ambiente qua. L'immagine, insomma. Quindi sentiamo anche Irene all'Istituto d'Arte. Perché? Perché mi è sempre appassionato la fotografia e il cinema e quindi questo mondo qui mi è sempre interessato. Allora direi, una cosa è sicura, lo stage lo avete azzeccato perlomeno come luogo, giusto? Sì, sì, assolutamente. Speriamo di rivederci presto. Allora, magari di venirvi a intervistare su qualche set dove possiate essere voi registe, ok? Va bene. Ciao, in bocca al lupo, grazie per essere state con noi. Grazie.